Sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure. Dopo una riunione con The Freak sul tema del viaggio, ho deciso di prendere l'auto di notte e partire per la Puglia, la mia terra, in tempo per vedere l'alba sul mare. Per me il viaggio è questo, è istinto, è razionalità, impulsività, il viaggio è l'alba, il viaggio è il mare. Ho deciso di raccogliere idee e pensieri di ragazzi e ragazze da ogni parte d'Italia e del mondo sul viaggio. Che cos'è per voi il viaggio? Il viaggio è tutto, il viaggio non è una sola definizione, il viaggio è la destinazione, il viaggio è quello che pensi prima ancora di partire. Limpirsi gli occhi e il cuore e accogliere dentro di sé un mondo nuovo, fatto di storia, tradizioni e abiti pubblici. Il viaggio è scoperta, avventura, libertà. Cos'è il viaggio? Il viaggio è vita. E la vita è il viaggio. Viaggiare è un cammino. Per me il viaggio è come un libro e le persone che non viaggio le read solo una pagina. Ciao a tutti, sono a Bodrum in Turchia. Per me il viaggio è divertirsi e stare insieme ai miei amici. Sai una cosa? Per me il viaggio è scoperta e conoscenza. Il viaggio è portare l'ambiente tra le nuvole. Il viaggio è avere il cuore sparpagliato in tanti luoghi diversi che chiami casa. Me ne siete trovi viajano solo quando realizziamo un altro paese di passeo? È conoscenza, secondo me, il viaggio. Come viaggio, come riposo, andare, no? La moglie, figlia, anche guardare papà e mamma. Per me il viaggio è un certo di vita. Per me il viaggio è un certo di vita. Per me il viaggio è un certo di vita. Il viaggio è il bilancio che hai fatto quando torni. Il viaggio è quello che decidi mentre racconti. Per me è avere un tempo di vita con la famiglia e amici. Il viaggio è... Un tufo! Il viaggio è un po' per me arrivare alla mia università, a un basis di base di vita, in Inelianz. Quindi penso che... Sightseeing. E qui è sightseeing. Il viaggio è trepidazione, aspettativa, curiosità, impegno, sogno, umau. Vuol dire anche prendere coscienza di se stessi e degli altri. Viaggiare è vedere le cose sotto una lente diversa. Per me è viaggiare e conoscere. Viaggiare e partire la ricerca di se stessi. E poi ritrovarci negli occhi della gente, nei luoghi sconosciuti, inesplorati. Vorrei, prima di andare all'altro mondo, di vedere molto di questo. Però, purtroppo, vorrei avere più tempo. Non fai freddo e provi a te stesso. Per me il viaggio è il libertà. Il viaggio è il viaggio di conoscere nuove persone e di conoscere nuove le persone. Buone donne e belle ragazze. Per me il viaggio è super. Questa è la cultura dell'Europa. Il viaggio per me è il relax. Viaggiare. Diciamo chi viaggia per lavoro, chi viaggia per vacanze. E' un'avventura fantastica. Ok, il viaggio è il viaggio di conoscere nuove cose. L'unico cosa che vuoi comprare che ti rende ricco. È come a girare, guardare. La nostra stessa vita è un viaggio. Un saluto dalla meravigliosa costa dei Trabocchi. Il viaggio è un'esperienza. Ciao dalla Liguria. Ciao dalla Liguria. La malinconia getta via l'apatia. Il sorriso porta unione, gioia ed armonia. Ridi, solo così tu sopravvivi. Scacciando la malinconia. Getta via l'apatia. Il sorriso porta unione, gioia ed armonia.